Nel processo a Danny Pruscino e Katia Reginella per l'omicidio del figlio Jason e l'occultamento del suo corpicino, ad oggi mai ritrovato, entrerà in scena il vero padre del bambino, scomparso a luglio del 2011. Per la prossima odienza, il 12 novembre, è stato infatti disposto l'accompagnamento coattivo dell'uomo, un diciottenne del posto, che aveva avuto una relazione con la Reginella, da cui era nato Jason, poi riconosciuto da Pruscino. Il vero padre del bambino dovrà testimoniare insieme ad altri dieci testi della difesa. Intanto, ieri a Macerata hanno parlato i parenti della coppia, dai genitori di Danny alla madre e alla zia di Katia, fino ai nonni, ognuno con i propri ricordi e le proprie versioni. L'unica testimonianza che ha acceso gli animi è stata quella di Daniele Pruscino, padre di Danny, ha negato quanto detto a verbale carabinieri, denuncia illegale della Reginella, Vincenzo Di Nanna, ossia che il figlio avrebbe confessato il delitto. Prima ha ritrattato, poi, con il verbale davanti, ha replicato che non era vero. Di Nanna ha rivolto poi domande sui contenuti di alcune intercettazioni e, anche qui, aggiunge, i parenti di Danny hanno negato tutto. Secondo il legale di Pruscino, l'avvocato Felice Franchi, l'accompagnamento coattivo del vero padre di Jason, che testimonierà in aula, è l'unica vera e importante novità del processo. L'accusa resta sempre la stessa, ucciso perché piangeva troppo e sbattuto contro il divano. Sarebbe morto così il piccolo Jason, a soli due mesi di vita. La procura di Ascoli avrebbe raccolto prove sufficienti per portare avanti questa tesi, un'accusa che ieri mattina, nell'aula della Corte d'Assise di Macerata, ha portato ad incentrare la discussione sul giallo del terzo cuscino del divano, che i Pruscino tenevano in salotto. Un sofà che sarebbe scomparso assieme al piccolo, sostituito da uno più nuovo. Tra i testimoni ascoltati c'è anche il titolare dell'abitazione, data in affitto alla giovane famiglia. La donna ha raccontato di non aver voluto indietro il terzo cuscino, perché logoro. Ma l'attenzione degli inquirenti si concentra proprio sul divano. Perché è stato sostituito? Perché le mura sono state riverniciate? Interrogativi ai quali dovranno trovare risposta i magistrati. Per l'accusa, infatti, sofà e cuscini sono stati gettati via per cancellare eventuali tracce di sangue del piccolo Jason.